Il post-feragosto è tempo di bilanci un po' per tutto, lo è anche per il Covid che però in questa estate non ci ha lasciato libri come negli stati precedenti. Questo è dovuto a tanti fattori e le prospettive comunque non sono rose. Allora diciamo che noi osserviamo una grossa circolazione del virus con tutto ciò che ne consegue. Quindi un indice di ospedalizzazione elevato se paragonato a quello che si era osservato sia nell'estate 2021 che nell'estate 2020 e quindi un aumento di ricoveri in reanimazione e purtroppo un aumento di decessi. Questa è una cosa che ci lascia ovviamente pensare e in prospettiva è naturale che potrebbero essere diversi gli scenari perché si vanno ad embricare diverse variabili. La prima variabile è l'arrivo del nuovo, la sotto variante indiana che è già arrivata in Italia, non riesce a sfondare fortunatamente ma se arriverà in maniera importante sappiamo che riesce a bucare i vaccini attualmente esistenti. La seconda variabile è appunto l'arrivo anche in Europa, in America stanno valutando in questi giorni quando lanciarlo sul mercato, quindi il nuovo vaccino ridisegnato su Omicron e poi c'è la terza variabile che è legata al comportamento dell'uomo, in particolare l'uso della mascherina. C'è stato un errore tra virgolette nel accelerare la quarta dose con dei vaccini che non erano aggiornati per Omicron? Secondo me non si può dire perché, perché noi non sappiamo quando arriverà il vaccino nuovo ridisegnato su Omicron e qui c'è purtroppo un grosso punto interrogativo perché potrebbe arrivare in ottobre oppure potrebbe arrivare anche più in là. Per cui se non dovesse arrivare allora è ovvio che bisogna combattere questo virus con i mezzi a disposizione. Si sente parlare molto spesso anche adesso che siamo in campagna elettorale di quelle che sono le questioni legate alle mascherine e poi ai vaccini. Si sente lei da medico di dire di scindere le due cose soprattutto in questo periodo di forte campagna elettorale? Parlare di obblighi, l'obbligo della mascherina e l'obbligo della vaccinazione è un qualcosa che dal punto di vista di pubblicità elettorale non riesce a bucare.